namaste come state oggi vi è piaciuta la nostra prima lezione di yoga oggi siamo qui per proporvene un'altra io comincio sempre tutte le mie lezioni con una posizione che abbiamo già visto insieme la posizione del gatto bisogna mettersi a quattro zampe vi ricordate nella posizione del gatto bisogna inspirare cioè far entrare l'aria nel corpo sollevando la testa e inarcando la schiena poi bisogna espirare cioè soffiare fuori l'aria dal naso abbassando la testa e arrotondando la schiena questa è la posizione perfetta per iniziare una seduta di yoga perché permette di cominciare a stirarsi ed è anche una posizione perfetta per iniziare la giornata puoi farla tutte le mattine quando ti alzi per svegliare il tuo corpo siamo pronti adesso alzati in piedi tieni i piedi leggermente divaricati girati di qua così si vede meglio i piedi devono essere più o meno alla larghezza del bacino benissimo nella lezione precedente abbiamo già visto la posizione dell'elefante andiamo a fare di nuovo questa posizione ma questa volta andiamo un po più lontano nella pratica inspira e riempi i tuoi polmoni d'aria espira soffia fuori l'aria dalle narici piegati in avanti lasciando morbide le braccia le spalle la testa adesso comincia a tirare come se volessi toccare il pavimento con le mani se ci riesci puoi toccarlo davvero non dimenticarti di respirare mentre mantieni la posizione adesso con le mani afferra le gambe o le caviglie questa volta dovrai tirare per avvicinare la pancia alle cosce mantieni questa posizione respirando tre volte aspira e spira e spira e spira e spira e spira e spira e piano piano torna insieme adesso allarga le gambe allarga le braccia gira entrambi i piedi nella stessa direzione come sta facendo il piano inspirando riempi la pancia di aria espirando sgonfi la pancia e scivoli verso la direzione nella quale hai girato i piedi mantenendo le braccia ben dritte e parallele al pavimento inspira ed espirando scendi fino a toccare con la mano la gamba o il piede poi gira la testa e guarda l'altra mano che si trova in alto se non riesci a vedere la mano non importa gira semplicemente la testa in direzione della mano questa è la posizione del triangolo inspirando torna lentamente in piedi e fai la stessa cosa dall'altra parte gira i piedi dall'altra parte apri le braccia scivola lentamente mantenendo le braccia parallele al pavimento poi scendi quindi espirando e gira la testa verso l'alto respira e ispirando torna in piedi mantieni le gambe divaricate però questa volta con i piedi paralleli conosci la destra e la sinistra? se le conosci ti saranno utili per questo esercizio che stiamo per fare se non le conosci ti basterà fare esattamente come Chiara allarga le braccia come nella posizione del triangolo inspira riempi la pancia di aria espirando vai a toccare il piede sinistro con la mano destra proprio come Chiara e giri la testa sempre come se volessi guardare l'altra mano che è rimasta in aria molto bene inspirando torna in piedi con le braccia allargate espirando vai a toccare il piede destro con la mano sinistra gira la testa e guarda la mano che è rimasta in alto o in direzione della mano se non riesci a vederla respira cerca di non muoverti durante le posizioni anche se è un po' difficile inspirando torna in piedi questa posizione assomiglia un po' a quella del triangolo infatti si chiama la posizione del triangolo rovesciato adesso mettiti in ginocchio appoggia le mani sulle gambe tieni la schiena ben dritta e chiudi gli occhi in questa posizione cercando di non muovere neanche uno dei tuoi muscoli conta dieci respirazioni cinque ispirazioni e cinque ispirazioni adesso sempre nella stessa posizione apri la bocca come se stessi sbadigliando e continua a far finta di sbadigliare finché non ti viene a sbadigliare davvero questa è la posizione del leone ti permette di stirare la mandibola e di attivare i muscoli del viso adesso facciamo la posizione del guerriero allarga le gambe come è fatto prima per la posizione del triangolo e adesso gira entrambi i piedi verso destra allarga ancora le braccia ma questa volta con le mani rivolte verso il pavimento bellissimo inspira e gonfia la pancia espirando piega e ginocchio destro vi raccomando devi fare in modo che il ginocchio sia sopra la caviglia quindi devi o allargare un pochino di più portare il piede un po' più avanti no, avanti se sei con il ginocchio così devi o allargare e portare il piede in avanti oppure tornare leggermente indietro altrimenti puoi farti male al ginocchio allora con le braccia aperte i palmi delle mani rivolte verso il basso guarda verso la tua destra e respira tranquillamente mantieni questa posizione e dopo un po' ti accorgerai che inizi a sentire la fatica nelle gambe e nelle braccia e proprio questa è la sfida del guerriero che deve resistere alla stanchezza ispirando torna al centro adesso gira entrambi i piedi verso sinistra allarga un po' di più le gambe se non ti trovi di nuovo con il ginocchio troppo sporgente adesso allarga le braccia con le mani rivolte verso il pavimento ispira gonfia la pancia ispira, sgonfia la pancia piega il ginocchio sempre guardando in avanti e ancora una volta senti i tuoi muscoli che lavorano quando senti la stanchezza vuol dire che i tuoi muscoli stanno lavorando e si stanno rinforzando cioè diventi sempre più forte ispirando torna infieme nella lezione precedente abbiamo visto molte posizioni con nomi di animali la posizione che stiamo per vedere adesso è la posizione di Anuman Anuman è una divinità indiana e fa parte della mitologia dell'India ti ricordi che lo yoga viene dall'India ecco Anuman è una divinità indiana che ha l'aspetto di una scimmia ma un'intelligenza e un cuore molto più grande di quella di qualunque essere umano questa posizione che stiamo per vedere ricorda il passo che Anuman fece per passare dall'India allo Sri Lanka e salvare la principessa che era stata rapita lo Sri Lanka è una piccola isola non lontano dall'India e si racconta che Anuman divenne un gigante per poter attraversare il mare con un grande passo e passare sull'isola a salvare la principessa e proprio con un grande passo inizia la posizione di Anuman una volta fatto questo grande passo porta le mani giunte davanti al petto e ispirando sollevale una delle parti più difficili è cercare di non muoversi mentre si mantiene la posizione per non perdere l'equilibrio fissa un punto davanti a te adesso fai il passo di Anuman nell'altro senso se prima hai messo davanti la gamba destra adesso metti la gamba sinistra e viceversa una volta presa la posizione solleva le braccia le mani giunte sopra la testa e guarda in avanti cercando di mantenere l'equilibrio perfetto adesso mettiti in piedi con i piedi ancora una volta alla larghezza del bacino il bacino è questo rimani in piedi con le braccia rilassate lungo il corpo e chiudi gli occhi mentre respiri fai attenzione alla pancia che si gonfia quando l'aria entra nel corpo e alla pancia che si sgonfia quando l'aria esce dal tuo corpo adesso sempre restando in piedi e continuando a respirare profondamente immagina di essere un albero immagina sotto i tuoi piedi delle radici che scendono nella terra immagina il tuo corpo come il tronco dell'albero e immagina intorno alla tua testa tutta una corona di rami, di foglie, di fiori e mentre respiri senti come le radici ti mantengono saldamente ancorata al suolo alla terra e senti questa corona di rami intorno alla tua testa sai come si nutre un albero? non mangia come noi ma assorbe l'energia dalla terra attraverso le radici e dal sole attraverso le foglie immagina di assorbire tutta l'energia di cui hai bisogno attraverso le tue radici che sono nella terra attraverso i piedi immagina i piedi che si caricano di energia e questa energia che sale su per tutto il corpo adesso immagina che tutte queste foglioline che stanno intorno alla tua testa assorbano l'energia del sole immagina questa energia che scende dentro la tua testa nel collo e poi nella schiena nella pancia e giù fino ai piedi immagina questi due tipi di energia diversa una che viene dalla terra e una che scende dal cielo che si incontrano dentro di te e che diventano un'energia completamente nuova e che fanno di te una persona completamente unica e diversa da tutte le altre immagina il tuo corpo come un bellissimo albero adesso respira profondamente inizia a stirarti e torna a muoverti ancora una posizione nella quale parleremo di destra e di sinistra se non sai distinguerle guarda semplicemente come fa Chiara piega la gamba sinistra come se stessi per incrociare normalmente le gambe con la gamba destra passaci sopra e vai ad appoggiare il piede a terra adesso solleva il braccio destro verso l'alto benissimo piega il gomito e lascia cadere la mano dietro la schiena con la mano sinistra passando da sotto cerca di andare a toccare la punta delle dita poi raddrizza la testa e respira ma vediamo la posizione anche da dietro perché è importante se riesci vai a toccare la punta delle dita se invece non ci riesci e ti ritrovi così per esempio non importa l'importante non è che le dita si tocchino quello che stiamo cercando è semplicemente di stirare le spalle quindi se stai facendo lo sforzo come se volessi che le dita si toccassero va benissimo adesso facciamo la stessa cosa nell'altro senso piega per prima la gamba destra poi porta il piede sinistro a terra adesso solleva il braccio sinistro e piegalo dietro la schiena con la mano destra da sotto cerca di avvicinarti al massimo alla punta delle dita mantieni la posizione e respira profondamente in questa posizione potresti accorgerti che da un lato riesci meglio che dall'altro è normale nessuno di noi è perfettamente dritto questa posizione si chiama la posizione del muso di mucca ci vuole un po' di immaginazione ma secondo gli indiani questo somiglia al muso di una mucca si si vede benissimo la mucca eccola io pensavo che scherzasse ma lei la vede davvero bene anche la lezione di oggi è terminata ci vediamo nella prossima namaste ciao 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 Grazie a tutti.